In questo video ragazzi ci spareremo un mega carico di batterie che ci hanno portato due iscritti molto molto particolari spero iscritti, fra poco lo approfondiremo da sparare per voi ragazzi Ciao ragazzi, benvenuti a Filotecnica Torretta Oggi partiamo subito con due special guest Esattamente E' qua, io di Lorenzo Ciao a tutti Abbassati, bravo Potreste averlo già visto in un altro video Ci l'ho portati via, abbiamo rubato a Maurizio Maurizio è nostro ormai, no, scherziamo È nostro Mi ha portato Mio tesoro Novità 2023 Compound Infinity 206 lanci Multicalibro dicevi? Sì, 20-25 di calcio Spettacolo, grammatura si sa? Andiamo a vederla dietro? Tutta a memoria Non si può fare Va bene commerciale ma diventa difficile Ok, una grammatura Un chilo 326 Ah, beh, niente male direi Niente male Neck, un chilo e tre Veramente carino Complimenti Se posso anche l'accortezza di far vedere gli effetti listati Io ve li metto Fate ferma immagine se volete leggere gli effetti di questo Maxi Compound Ci dice anche le altre? La San Marco Tutto oro San Marco d'oro Tutto oro in che senso? Fammi vedere gli effetti Giramela dietro perché ha detto tutto oro E io qua ci voglio vedere chiaro Abbiamo la bellezza di 446 grammi Gira ancora che arriviamo agli effetti Che cacchio sono gli effetti Gira Ah, bingo Gira a ruota Yeah, yeah Apertura oro lampeggiante Chisantemi oro broccato con sci oro Figo O Mg potremmo dire Vai E poi per una chiusura Dopo ad esempio un compound Una batteria Con aperture Tutto è colpi titanio Tutto è titanio Comete colorate con blinker Argento Ma Singole volate Allora questo funzionamento Colpo singolo L'ultima Involata Ah, ok Simpatico Quindi questo Ti chiedo a te Vieni qua Lorenzo Dove vai? Scappa Scappa lui È sfuggente Questo qui potrebbe essere già Uno prende tutti questi tre E fa Spettacolino Per Sì Spervi al fine anno Magari apre con la San Marco Precede con l'Infinity E chiude con la Hidalgo Cake Per far tremare i vicini E poi E poi Vieni qua carissimo Che ormai tu non sei più Non vuole entrare in cama È tornato oggi Purtroppo ha avuto un po' di traffico Problemi È riuscito a portare Però comunque un regalino Perché lui a mani vuote Non viene mai Josef Freddi ho pure in mano E fra il resto io voglio ringraziarlo Perché la volevo provare Veramente tanto Le pressate di perfetto La apriamo intanto Un momento smr Vai scavicchi Senti come piace Agli utenti Questo momento Utente Entra No basta No Basta Anche perché in questo posto Urlare entra È problematico Occhio solo al grilletto Dell'accendino Sì 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 Dici che ci hai portato Lascia qua Alexis perfetto Qua è una batteria Della perfetto Da 16 mm Ah 116 100 colpi Pressata Beh potrebbe essere Una buona alternativa Il costo 26 euro Economica quindi Sì Beh una 100 colpi A 26 euro Dove l'hai presa? No Piroworks Piroworks Grande Colice sconto PLT 5 Esattamente ragazzi Quindi Considerando il prezzo Andiamo a provarla Poi perfetto Comunque è una marca di qualità Quindi Super curioso Di vederla in azione Io se mi permettete Vorrei fare solo una cosa Premium quality 100% Chissà com'è la premium quality Al 90% Io vorrei fare solo una cosa Il momento smr No vorrei solo far vedere Oh Perché Qui potrebbe venire Il cioccoloduru Il cioccoloduru Bella 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 Gran bel prodotto Bella anche questa plastica Rossa sopra Che fa vedere I colpi sotto Ti fa già sognare Ovviamente Ragazzi Lui non ce l'ha detto Ma ci ha portato Quelle difettate Figurati No Adesso esplode a terra Questo è in inerte È inerte È solo di esposizione La c'è mia Non succede niente Facciamo un momento Vieni Samu Vai Momento smr Vediamo cosa c'è dietro La pellicola Venute 4 persone Ok dai Andiamo in mezzo al campo A sparare Basta cagate Bene ragazzi 100 colpi pressata Alexis Del perfetto Sembra un filo meglio Delle teanese Anche se non troppo Non va lontanissimo Mamma mia Che apertura Non in senso buono Vacca che roba Sempre in senso buono Ragazzi La lanciata a spessare E che sono buone per far casino Sono fatte per accenderti un cartone Assieme Niente volata finale Niente volata finale Eh aspetta un attimo Porco can c'è Ottimo Qualità Bella 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 accoppiata di effetti Su questa Tanta roba Bella ne Poi Infiniti ragazzi Bestione 206 colpi Novità 2023 Borgo nuovo Questo ce l'hanno definito Molto elegante Vediamo un po' com'è Uh c'è Eccolo Eccolo Eh beh Eh beh Eh beh Complimenti Borgo nuovo Che perfetto Che perfetto Che perfetto Un po' di fungo fa Ma oggi è molto umido Ragazzi Eccolo Mamma che finale Tanta roba Maestoso questo Infiniti ragazzi Ce lo dicevano un pochettino Più da matrimonio In effetti E in effetti È una combinazione Di effetti Veramente Forse un po' A me piace di più In effetti Rispetto al Morrigan Molto Particolare Devo dire Cioè molto particolare Molto piaciona Sì Doppia cluster cake Ragazzi Questa perfetta Per i finali Ne accendiamo Due insieme Per enfatizzare Ancora di più Entrambe le trovate Giochi pirici Borgono Ancora di più Pagolità Giochi Spettacolare Ragazzi Veramente Tanta roba Queste cluster cake Mi fanno un finale Veramente Da paura E cosa mi dici Di questo Infiniti Che te devo Di Nicolò Una bestia Raga Bello Veramente carino Veramente Veramente Bello Ragazzi Ti scrosti Un po' Di fango 4 cm Di fango Sotto Non so Che cacchio È successo È il campo Di milano Sarà mica Il campo Aspetta Sai che può essere No Dai ci siamo Allora Ma che cacchio Ma semplicemente Ma semplicemente Ma semplicemente È un po' Più lento Ma Un po' Più il colorio Però Devo dire Che se a uno Piace L'argento L'oro Spacca Raga Comunque Il ritmo Le aperture Tanta tanta roba Prodotto Prodotto veramente Fatto molto Molto bene Sì Veramente molto bello Ma anche la San Marco Tutta oro Veramente tanto Tanto bella Veramente molto bella Come spesso fanno le palme Tutte oro Anche la San Marco L'aveva tutti i blinker Idle Go Cake Due fatte insieme Tanta rueba Ma anche singole Tanta roba Spettacolo Eh Colpo il titanio Raga Eh sì Da vivo Fidatevi ragazzi Mi bravo a tutto il corpo Comanda La San Marco Molto molto bella Sì Però volevo dire Un'altra cosa Sull'infinity È uno di quei prodotti Un compound Che tu ti prendi Volendo Ti puoi prendere Anche solo quello Sì Basta Non ci pensi più Se tu prendi quello Te lo piazzi lì Certo Non è infinito Dura un minuto e mezzo Che freddo Che fa Due minuti neanche Però Lo prendi Lo metti lì Fai la mezzanotte Scopri il tuo compagno Fai una porca figura Sì Abbondantemente Come quello che avevo Andato sulla Morgan Io di questo Un po' le stesse cose Fatto molto bene Ottimo Anche la Lexis Non male Questa mi ha sorpreso Buona per chi può fare Poco rumore Come sempre ragazzi O per chi deve fare massa Però posso dire che Batte la Teanese Sì 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 a zero Secondo me Sembrata più bella da vicino Beh gli aperture erano più grosse La Teanese Raga Non apriva quasi Alcune avevano tre stelle È vero Sì Però vabbè Nel senso Ci si potrebbe aspettare di peggio Sì Molto peggio Pensavamo di peggio Invece comunque Per i soli 17 grammi Diciamo che Ci prova Guardate i buchi Tu puoi darci un'opinione? No no Vieni qua Solo la tua preferita Allora Ragazzi Lui ovviamente Questa qua Non la commenta Perché non c'entra niente Perché non sarebbe corretto Tu che ci dici Cosa ne pensi di questi compound Come compound è molto adatto per i matrimoni Come colori preferisco Come preferenza anche io sul Morrigan E come finali sia la serie 980 Che la cluster La final cake Sono ideali per Proprio finali Anche Per chiudere Piccoli spettacolini Ci sta Ci sta Diciamo che segue un po' La linea di quello Quindi non abbiamo detto Cagate E poi Tutti Abbiamo detto cosa Cosa più importante Poi dalla final cake La cluster cake O la ideagol Praticamente Cambiano Le varie sequenze di sparo Cioè C'è quella che fa Colpo singolo Oppure Fila per fila Per un finale un po' più Aggressivo Bello Beh direi che abbiamo scoperto Delle cose nuove Sì Per questo video Direi che è quasi tutto Ringraziamo gli ospiti Grazie a tutti Grazie mille per i prodotti Grazie mille a Iose Per essere venuto Per averci portato Questa pressata Diteci nei commenti Eh Non te l'avevamo detto Diteci nei commenti Se vi sono piaciute Se vi è piaciuto il video Se vi sono piaciuti gli ospiti Se volete scusare gli ospiti No Iscrivetevi a YouTube Instagram TikTok E Telegram Ricordatevi sempre Pyronation Un euro al mese Se ci volete aiutare Detto questo Vi salutiamo E ci vediamo alla prossima Ciao a tutti